800.000 euro per le strade, 200.000 per gli impianti sportivi, 250.000 per le scuole, 50.000 per i centri sociali e 80.000 per gli immobili comunali. Tra l'altro, finalmente, sarà ripristinato anche l'ascensore all'interno del palazzo comunale dopo l'intervento sul tetto. Un totale di un milione e mezzo di euro stanziati dal comune di Arezzo nel settore della manutenzione. Sicuramente è difficile anche perché proprio sulla manutenzione impattano maggiormente i limiti ai bilanci posti dai comuni. La manutenzione va finanziata di fatto con il bilancio comunale, non si ottengono finanziamenti pubblici, non ci sono bandi e quindi chiaramente tutti i limiti normativi nel fare investimenti ne subisce la manutenzione. Però è una priorità assoluta e in quest'ultima fase dell'anno abbiamo in una serie di tante piccole opere che riguardano strade, scuole, aree verdi e anche centri sociali, così come impianti sportivi abbiamo destinato un milione e mezzo di euro. In parte sono già stati realizzati e altri sono in corso. Anche via Giotto sicuramente è arrivato il momento di una serie di interventi, ne ha bisogno la strada e alcune marciapiedi delle strade interne da via Biato Angelico a via, insomma, varie strade ce ne ha sicuramente bisogno. Quindi fa parte delle priorità. 20.000 euro saranno destinati all'illuminazione in Viale Michelangelo ed in altre zone della città, interventi previsti anche nel Parco del Pionta assieme agli altri enti preposti. Dunque, l'illuminazione cittadina che conta circa 20.000 punti luce nel territorio comunale è stata di fatto completamente riorganizzata perché abbiamo fatto una gara che ha visto moltissimi investimenti e un risanamento di tutti gli impianti. Oggi, e quindi l'illuminazione sostanzialmente risponde a tutte le normative, oggi c'è un'esigenza molto diffusa, soprattutto per motivi di sicurezza, di incrementare l'illuminazione, che impatta anche con quelle che sono le indicazioni nazionali invece di risparmiare sull'illuminazione. Ora è chiaro che noi siamo consapevoli che l'illuminazione risponde a un'esigenza di sicurezza, di tranquillità e stiamo lavorando in varie zone. E' uscito fra tutti anche l'area del Pionta, su cui stiamo facendo proprio uno studio per ridare a quest'area, che ripeto non è comunale, ma comunque sempre pubblica, una nuova proprio carattere dell'illuminazione e della sicurezza. E più ovviamente anche in alcuni punti cittadini, qua e là, si stanno facendo anche degli inserimenti di punti luce. Grazie.